Il ricordo di padre Giuseppe, una vita passata a fianco degli ultimi, quella del comboniano veronese morto in Peru. Da giovedì in città al vertice dei grandi del mondo per il G7 sui temi di sicurezza e sviluppo, Africa e Mediterraneo, intelligenza artificiale. Con settembre sono riprese le attività educative negli asili nido comunali e il sindacato Will FPL ricorda i lavoratori che i requisiti per l'esercizio della professione di educatore scolastico dell'infanzia rimarranno immutati. Buonasera, ben ritrovati dal Tg di Telepace. È iniziata l'impegnativa visita apostolica del Papa in Indonesia che terminerà il 13 settembre e lo porterà anche a Papua, Nuova Guinea, Timorest e Singapore. Dopo l'atterraggio nella capitale Giacarta, Francesco si è diretto all'Annunziatura Apostolica per incontrare 40 persone assistite da Suore Domenicane, G-Suite, Rifugi Service e Comunità di Sant'Egidio. Il Pontefice ha salutato uno a uno i presenti, ha ascoltato le storie di ognuno, tra loro anche una famiglia di profughi dello Sri Lanka e un rifugiato Rohingya. È l'unico appuntamento della prima giornata di oggi dedicata al riposo. Ricordo che questa sera su Telepace alle 20.30 riproporremo l'arrivo del pace all'aeroporto. Domani alcuni appuntamenti importanti. Alle 11.30 l'incontro nella cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione, alle 12.35 l'incontro con i giovani di Scolas Occorrentes e alle 20.40 la cerimonia di benvenuto e la visita al Presidente della Repubblica. Una vita passata a fianco degli ultimi, quella di padre Giuseppe Comboniano Veronese, morto in Perù. Il ricordo di un suo confratello missionario. Vediamo. Grande partecipazione di persone al funerale di padre Giuseppe Messetti, Comboniano, di origini veronesi, morto il 31 agosto in Perù, sembra in una caduta. Lo ha conosciuto bene padre Fernando Madaschi, 20 anni in Perù, 5 in Guatemala e 5 in Salvador, che così lo ricorda. Era un grande missionario che ha condiviso i 38 anni di vita missionari con i poveri delle Ande. Lui è sempre stato sulle Ande, perciò accompagnava le comunità cristiane, le comunità campesine, anche il mondo dei minatori. È sempre stato a fianco dei più poveri. La sua pastorale era proprio quella del pastore che ha l'odore a pecora, perché lui è sempre stato in mezzo alla gente, con la gente, ha camminato con il popolo peruviano, condividendo le loro fatiche, le loro sofferenze, ma anche il loro grande amore per la vita, per la giustizia, per la pace. Lui ha avuto anche sempre questa sensibilità forte per la difesa dei diritti umani, difesa della pace, della giustizia, dell'ecologia e del creato. In queste zone dove ha lavorato ci sono anche molte miniere, perciò c'è tutto il problema della contaminazione, c'è tutto il problema anche dei minatori, che sono sfruttati dalle multinazionali e lui comunque come missionario comboniano è sempre stato al fianco dei poveri, ha sempre camminato con i poveri, ha vissuto con loro e in mezzo a loro. Cosa vuol dire essere padre comboniano in una missione, dare la vita fino in fondo per stare a fianco delle persone? Vuol dire quello che comboni ci ha trasmesso, che è quello che Gesù ci dice nel Vangelo, che non c'è amore più grande e di colui che dà la vita per i suoi amici e comboni, anche comboni ha sempre vissuto questo, è sempre stato al fianco dei più poveri, allora anche noi comboniani dove siamo? In Africa, in America Latina, in Peru o adesso in Asia, però scegliamo sempre i più poveri, perché Gesù ha scelto i poveri, perché San Daniele Comboni ha scelto i poveri. Da ieri è tornato percorribile alle auto Ponte Nuovo su una corsia di marcia dell'ampiezza di 2,40 metri da Via Nizza a Piazza Santo Maso con passaggio pedonale annesso, percorribile anche via San Leonardo dopo i lavori di consolidamento. I lavori su Ponte Nuovo sono iniziati con la precedente amministrazione a novembre 2021, rallentati a causa della bonifica bellica e della piena dell'Adige che ha reso necessario la predisposizione di un nuovo ponteggio. L'opera sarà finita nell'estate del 2025 e costa in totale 3 milioni di euro. Da giovedì in città al vertice delle camere basse del G7 sui temi di sicurezza e sviluppo Africa e Mediterraneo, intelligenza artificiale e cyber sicurezza. Al termine della riunione è prevista l'adozione di una dichiarazione finale. Abbiamo chiesto in merito un commento all'assessora Stefania Zivelonchi. Sarà il secondo G7 nel giro di sei mesi e questo credo che debba essere necessariamente sottolineato ed è inoltre un evento importantissimo che segue di poco più di dieci giorni l'altro evento a Gesci che la città ha ospitato con caratteristiche ovviamente estremamente diverse ma con la medesima natura impattante sulla città in termini di importanza, in termini di rilevanza, in termini soprattutto di grande attenzione. Un G7 che si svolgerà in luoghi anche messi a disposizione del Comune. Mi riferisco in particolare al Museo di Castelvecchio per la cena inaugurale in cui sarà presente anche il Presidente Mattarella, piuttosto che il Museo Maffeiano per quanto riguarda un passaggio sempre dei Presidenti e il Cortile di Giulietta per una visita il giorno 7. I lavori poi si svolgeranno di fatto all'interno dell'edificio della Prefettura, quindi in Piazza Dante, però la mobilità delle delegazioni, dei Presidenti e del loro seguito avrà un impatto importante sulla città che in parte è già iniziato il giorno 2 settembre soprattutto per le aree circostanti all'area di Castelvecchio piuttosto che tutti i percorsi che sono interessati dagli spostamenti dei partecipanti. Con settembre sono riprese le attività educative negli asili nido comunali e il Sindacato Will FPL ricorda ai lavoratori che i requisiti per l'esercizio della professione di educatore scolastico dell'infanzia rimarranno immutati. Vediamo. Gli educatori attualmente impiegati come supplenti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia gestite dagli enti locali potranno continuare a svolgere le proprie mansioni senza interruzioni. Una buona notizia per la riuscita della quale si è impegnata la Will FPL che chiede l'assunzione di nuovo personale per garantire una gestione delle attività sostenibile per tutti. Noi abbiamo mandato un comunicato perché vogliamo rassicurare queste educatrici che avranno un anno durissimo davanti e ne hanno avuti almeno 4 o 5 alle spalle dicendo che la formazione del nuovo albo delle educatrici non ha un termine perentorio come era invece stato detto qualche mese fa soprattutto nei mesi estivi e quindi vogliamo dare questo messaggio positivo in cui l'anno scolastico riprenderà per tutte le lavoratrici e i lavoratori, educatori ed educatrici in maniera positiva e diciamo da questo punto di vista sereno. C'è comunque un clima in realtà un po' teso tra le lavoratrici perché? C'è un clima molto teso perché da anni a livello organizzativo quello che le educatrici e le coordinatrici devono sopportare sono numeri molto risicati dal punto di vista del personale quindi grandi sforzi anche supplenze, numeri dei supplenti e numeri dei giornalieri che non reggono tutto l'anno potrebbero reggere solo dal punto di vista teorico ma nella pratica soprattutto nei mesi invernali le educatrici e gli educatori dei nidi vanno in grandissima difficoltà. Che proposte avete per l'amministrazione comunale? Nuovo personale, nuove assunzioni, abbiamo bisogno di aria, di possibilità di organizzare in maniera migliore con dei numeri più ampi. In seconda battuta cercare di organizzare e di predisporre un nuovo protocollo che riguardi sia il personale interno ma anche l'amministrazione e coinvolgere noi come sindacati che siamo pronti a dare il nostro contributo per cercare di dare a Verona un servizio di qualità. Si è concluso sabato a Bosco Chiesa Nuova, si è conclusa la trentesima edizione del Film Festival della Lessinia, dieci giorni di proiezioni con grande successo di pubblico, 97 film da 48 paesi con 31 anteprime italiane. La giuria internazionale ha segnato a Where We Used to Sleep del regista Matthäus Wörle la Lessinia d'Oro, il massimo riconoscimento della rassegna cinematografica internazionale dedicata a vita, storia e tradizioni in montagna. Sabato prossimo in occasione della festa della Natività della Madonna, ad Albaredo, Dadige, il Circolo Noi, Arena nel Verde, APS e l'unità pastorale di Albaredo propongono il concerto del gruppo, trovato Vocal Group. Lo spettacolo si terrà alle 20.45 all'Arena del Circolo Noi. Abbiamo sentito gli organizzatori. Innanzitutto è un dono che ci è stato fatto e che noi a nostra volta vogliamo fare a tutta la comunità. un dono alla fine di questa estate, che è stata un'estate molto intensa, molto bella per la nostra unità pastorale, e così attorno a Maria, nella visiglia della sua Natività e per la pace nel mondo. Tra l'altro questo concerto, questa serata, casca proprio nel cuore del viaggio apostolico di pace che è iniziato in questi giorni, e quindi questa unità della Chiesa, del mondo, per la pace, per la giustizia. Zeno, in che modo è coinvolto il Circolo Noi in questa serata? Il Circolo Noi collabora con la parrocchia da sempre, a supporto delle attività della parrocchia, proprio nelle proprie attività, noi saremo operativi, ci aiutiamo nella macchina organizzativa e quindi per tutto quello che riguarda l'aspetto organizzativo e gestionale dell'evento e di propaganda. Ecco, Don Floriano, inno alla vita, siamo attorniati da notizie spesso angoscianti, di cronaca nera veramente devastanti. Quanto c'è bisogno di dare questi messaggi di speranza? Siamo fatti per la vita, siamo fatti per la speranza, siamo fatti per l'amore e questo è il nostro DNA, per questo noi vogliamo anche con questa serata annunciare il Vangelo della vita, della speranza, dell'amore, in un modo concreto, bello, perché tutti lo possono accogliere e vivere. Debutta domani, 4 settembre, in anteprima nazionale, nell'ambito dell'estate teatrale veronese al Teatro Romano, si ortodero Brontolon di Carlo Goldoni, con Franco Branciaroli nel ruolo del protagonista e la regia di Paolo Valerio. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile dei Friuli Venezia Giulia, dal Teatro degli Incamminati dal Centro Teatrale Bresciano, a ottobre inaugurerà a Trieste la stagione dello Stabile dei Friuli Venezia Giulia, sarà poi in tournée italiana. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi e buona serata.